In Abruzzo parte da 14 comuni della provincia dell'Aquila il servizio di richiesta al rinnovo del passaporto negli uffici postali. La prima pratica è stata effettuata ieri a Balsorano secondo quanto previsto dal progetto POLIS, Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa ideata da poste italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, con un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro, finanziato per 800 milioni con risorse del piano complementare al PNRR e con 400 milioni a carico di poste italiane. A partire da luglio il nuovo servizio sarà esteso a tutti gli uffici postali del Paese senza distinzione tra comuni piccoli e grandi, come annunciato da Giuseppe Lasco, direttore generale di poste italiane, al termine di un incontro con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Grazie alla convenzione firmata tra poste italiane, ministero dell'interno e ministero delle imprese del Made in Italy, i cittadini potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente nell'ufficio postale senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio. Il servizio sarà fruibile in circolarità provinciale, cioè recandosi presso l'ufficio abilitato del proprio comune di residenza o in uno qualsiasi dei 14 uffici postali dove attivo il servizio. Oltre a Balsorano, Campo di Giove, Canistro, Capitignano, Castellafiume, Fontecchio, Luco dei Marsi, Molina Terno, Ovindoli, Poggio Picenze, Rocca di Mezzo, Sampio delle Camere, Sante Marie e Villa Sant'Angelo, come spiega Daniele Evangelisti, responsabile provinciale della filiale dell'Aquila di poste italiane. Questo servizio è sicuramente di grande vantaggio per tutti i cittadini residenti che vorranno appunto richiedere o rinnovare il passaporto. I vantaggi ovviamente sono tanti. Il cittadino non dovrà più recarsi presso la questura, quindi evitando di impiegare tempo per aggiungere l'Aquila ed anche denaro per lo spostamento in auto. Il nuovo servizio semplifica di molto le vecchie procedure. In primo luogo non serve prenotare un appuntamento. Basterà infatti recarsi nell'ufficio postale prescelto come per qualsiasi altra operazione, consegnare un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie di cui una precedentemente legalizzata, una marca da bollo da 73,50 euro in contrassegno telematico e pagare il bollettino di 42,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica di poste italiane sarà poi l'operatore di sportello a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino, impronte digitali e foto, inviando poi la documentazione all'ufficio di polizia di riferimento. L'avvocato Gabriella Perruzza è la prima cliente di poste italiane ad aver usufruito del nuovo servizio, ritirando il proprio passaporto presso l'ufficio postale di Balsorano. Le distanze e le lungaggini temporali che erano richieste nei mesi precedenti facevano sicuramente da deterrente. Ad oggi, grazie all'opportunità del mio paese, il comune di Balsorano, ho potuto finalmente soddisfare quello che è un mio diritto e usufruire di un grande servizio volto per notare quanto prima il prossimo viaggio.